Ha celebrato, signor sindaco? Sì, ma ho l'impressione di aver commesso un reato. Qui fa schifo tutto, anche gli sposi. Ecco, ci sarebbe da firmare il modulo 31. E poi non dica così. Deve essere una bella soddisfazione sentirsi il sindaco, no? Giovanni, questo comune conta 200.000 abitanti e per me sono 200.000 rotture di scatole. Altro che soddisfazione. Come l'ha fatto fare poi di fare il sindaco? Ho già il mio ufficio di assicurazioni con altrettante preoccupazioni e altrettante rotture di scatole. Grazie.